Prova la botta, diretta in porta, raso terra intercettato, ci riprova Buechel col sinistro! Il raddoppio dell'Empoli! La rete stavolta è siglata da Marcel Buechel, fanno due per lui in campionato, due anche le reti dell'Empoli a Firenze. Dopo 26 minuti del primo tempo, la viola è sotto di due in casa con l'Empoli di Giampaolo. L'aveva detto Paolo Sousa, non sottovalutiamo l'Empoli, è una squadra che se la viene a giocare ovunque, ma mai avrebbe pensato, dopo neppure un terzo di partita, di dover rimontare due gol. La rete di Buechel!